Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bel romanzo storico appena pubblicato da Newton Compton che si intitola Maledizione Notre Dame di Barbara Frale che abbiamo un grande piacere di avere nostra gradita ospite e alla quale io lascio subito la parola perché ci parli di questo romanzo che mi sa che è un thriller. Sì, intanto grazie per avermi ospitata nella vostra rubrica, è sicuramente un thriller in quanto diciamo per deformazione professionale come storico del Medioevo che è un'epoca piena di oscurità e di intrighi, io forse non potevo fare se non dei thriller in quanto il crimine, la congiura, anche le infamie rigurgitano i documenti medievali di queste cose e quindi è necessariamente il mio terreno di indagine. Noi siamo in un'epoca particolarmente gotica, siamo al tempo del processo dei Templari e lo stiamo vedendo in questa saga, il libro Maledizione Notre Dame, è il quarto capitolo di questa saga che a me piacerebbe portare avanti, poi vediamo insomma dipende sempre se la gente ha desiderio di conoscere e di starmi a sentire, questo bisogna chiaramente vederlo. Siamo all'inizio della macchinazione contro i Templari quando i Templari cominciano a dare veramente fastidio al re di Francia e cominciano a girare così come dire gli ingranaggi della macchinazione che poi sarà portata avanti da Guillaume de Nogaret, un uomo spregiudicato ma geniale, un avvocato veramente intelligente e astuto che sarà il grande regista del processo contro i Templari. Siamo in questo momento ancora durante il regno di Papa Bonifacio VIII, forse nel momento più difficile e drammatico quando arriva allo scontro con il re di Francia, alla vigilia del grande attentato di Anagni, quindi è un momento di tensioni, è un momento di difficoltà l'anno 1302, in particolare la parte calda dell'anno tra la primavera e poi l'autunno, quindi la piena estate, è un'estate rovente di ferro e di fuoco in cui sembra che tutti i personaggi principali del libro in qualche modo scendano all'inferno, in questo senso sono costretti ad attraversare un momento terribile della loro esistenza che è un po' come passare la porta dell'inferno. Questo sarebbe stato il titolo che io avrei scelto, poi l'editore in qualche modo conosce i gusti del pubblico, un po' fa come vuole, tutti gli editori, il mio non è che sia diciamo diverso dagli altri, a grandi linee metti anche quello che piace a lui, pure questo entra nel gioco e quindi ha scelto Maledizione Notre Dame perché c'è questa porta sulla facciata di Notre Dame, la porta sinistra, che secondo un'antica tradizione venne forgiata da questo fabbro geniale e maledetto Biscornet con l'aiuto del diavolo perché in una sola notte riuscì a fare tutti quei freggi di ferro battuto che sono ancora oggi visibili, sono meravigliosi, ferro battuto bronzo non ricordo, comunque sono di metallo, è un lavoro da fabbro, un lavoro di mesi, riuscì a farlo in una sola notte ovviamente non con poteri soltanto umani e ci sono delle leggende legate a questa porta, chiaramente noi le prendiamo per buone perché in un romanzo la leggenda è di casa e la porta dell'inferno è quella che deve passare il re di Francia Filippo il Bello che parte verso le fiandre per domare la rivolta ma ci sono segnali sin dall'inizio di cattivi presaggi e andrà incontro al più terribile, una strage di cavalieri francesi battuti da un manipolo di tessitori artigiani delle fiandre che non avevano neanche le spade, quindi c'è da chiedersi com'è stato possibile mettere in campo una strategia geniale per sgominare la cavalleria francese. C'è un mucchio di speroni d'oro nella cattedrale di Courtrey che vengono strappati, questi cavalieri francesi vengono sgozzati, cosa che è anomala perché nel meglio è un nobile conquistato, catturato in battaglia, fruttava un altissimo riscatto, quindi tutti quanti salvavano la vita, i nobili eventualmente uccidevano i poveri diavoli, ma i nobili venivano pagati molto bene, invece i cavalieri francesi a Courtrey sono tutti sgozzati, poi uccisi come maiali, c'è anche un gesto di spregio e c'è da capire chi è che abbia orchestrato tutta questa strategia. È un oltraggio, è come dire uno scorno per la Francia che non verrà mai più dimenticato perché era il suo l'esercito più potente, meglio preparato e temibile di tutto il mondo cristiano. I saraceni temevano i francesi. Com'è possibile che quattro artigiani, tessitori di tele di Fiandra abbiano potuto fare questo? Scendere a capire questo per Filippo il Bello sarà come varcare la porta dell'inferno. Una maledizione. La stessa cosa accade a Dante. Dante che si trova presso la Curia Romana, da tempo ormai, cerca di parlare con il Papa per capire quale sarà la sorte della sua Firenze contesa nelle faide tra Guelfi e Ghibellino. Bonifacio VIII non ha mai il tempo di riceverlo. Questa udienza viene rimandata, viene rinviata. Tutti gli altri membri della legazione di Firenze vengono rimandati in patria, vengono richiamati a Firenze ma Dante no. È vero che era un membro di spicco del partito dei bianchi ma è stato molto ingenuo o forse capiva che c'era qualcosa che non andava ma lui voleva perorare la causa della sua Firenze. Lui voleva rimanere lì per salvare la situazione di Firenze e quindi tiene duro fin quando, e qui lasciamo la storia, entriamo nella trama, fin quando una notte fa un sogno che lo spaventa. Si ritrova in uno scenario che è quello che poi descriverà nella Divina Commedia. Di colpo in una selva oscura senza una via d'uscita con delle belve che lo minacciano. Le belve lo inseguono fin quando non si fermano perché hanno visto qualcosa ancora più spaventoso di loro. Una porta nera immensa che introduce alla città oscura, la città dei morti. Dante si sveglia agitatissimo, si rende conto che è un sogno atroce. Nel Medioevo il sogno è sempre un veicolo attraverso il quale Dio o il diavolo parlano all'uomo. Dante che cosa fa? Si rivolge ad Arnaldo da Virnanova che è il medico di Papa Bonifacio VIII, anche alchimista e conoscitore delle arti oscure, quindi anche un divinatore e Arnaldo non ha dubbi gli dice di ritornare subito a Firenze e di mettere in salvo la moglie e i figli perché Dante perderà la patria. Quindi anche questo ritrovarsi esiliato addirittura con l'accusa di stregoneria mentre lui sta lì a Roma a fare la sua missione per orare la causa di Firenze per Dante è atroce, è veramente come passare attraverso la porta dell'inferno. Il terzo personaggio che a me piace molto e in qualche modo ha veramente una parte della mia anima anche se ancora è molto giovane è Maddalena Caetani, personaggio che nella saga crescerà, è una ragazzina intelligentissima e noi dobbiamo immaginare una sorta di piccola Rita Levi Montalcini del Medioevo, c'erano queste donne, noi conosciamo figure di donne scienziate come Santa Idegarda di Bingen, una monaca, i saggi del tempo andavano nel suo monastero per parlare con lei, quindi non è un personaggio astruso, anzi ricalca personaggi storici reali. Maddalena Caetani che essendo la nipote del Papa intelligentissima studia è sempre in birico tra la volontà della famiglia di farla sposare cioè usarla come un mezzo per creare degli utili legami dinastici, cosa che avveniva con tutte le donne, le ragazze poi più erano belle più erano importanti questi legami dinastici con cui loro erano dei lacci. Maddalena però è talmente tanto intelligente che la famiglia è anche tentata di dire no mettiamola in convento dove studierà e diventerà un'altra Idegarda di Bingen perché comunque non è possibile che le donne studiassero come gli uomini nel Medioevo. In convento sì, le monache potevano studiare, potevano avere, era forse l'unico modo per avere una loro strada. C'erano poi le medichesse a Salerno ma anche in Francia la re Luigi IX il Santo aveva un medico donna, tuttavia era un sapere limitato solo alla cura del corpo, alla medicina. Maddalena che è in bilico, si sposa o diventa monaca e studia, viene rapita, scompare nel nulla, rapita da sicari sconosciuti per non si sa quale motivo. Ci sono molte congetture in questo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo il Bello e noi vediamo sia il fratello di Maddalena disperato che cerca di rimettere insieme i pezzi e di capire chi poteva avere interesse a rapire questa ragazza, si vuole ricattare il Papa. Per quali sono i motivi di questo rapimento? Ma soprattutto la parte che io ho amato di più scrivere è Maddalena che non capisce nulla, si vede portata via da casa e soffre ed è in ansia ed è terrorizzata ma è anche molto coraggiosa, ci racconta questo suo viaggio al chiuso nella claustrofobica prigione dove viene trasportata senza avere contatti con nessuno se non un libro che si trova in questa vettura dove lei è trasportata. Un libro anonimo, quindi di nuovo l'unica voce che lei, l'unica voce umana che lei può ascoltare è una voce scritta di uno scrittore senza nome. Questo forse è ciò che mi piace di più, il mistero di questo viaggio. Credo di avere detto anche troppo, ma insomma queste sono le coordinate fondamentali del thriller, sì è un thriller senza dubbio, anche piuttosto nero sotto certi aspetti. Barbara può anche essere una bella lettura divertente per certi versi, no? Perché? Credo di sì, assolutamente sì, no no no, voglio dire, finisce bene, ecco questo me lo posso permettere di dire, io i libri con un finale drammatico che lasciano il lettore con l'amaro in bocca gli odio, devo essere sincera, quindi ci possono stare disgrazie, a volte l'eroe muore, perché nella vita, chiaramente quando toccherà a Jacques de Molay che muore sul rovo, io non posso cambiare la storia, sarà una situazione finale, drammatica, la più drammatica, la più reale possibile, ma il suo ideale vive, vive ancora oggi dopo 700 anni, tant'è vero che tutti vogliono sapere la storia dei Templari, quindi c'è una morte fisica, ma c'è una immortalità nel tempo, nell'ideale. Allora, ricordiamo il titolo che è Maledizione Notre Dame, l'editore non aveva tutti i torti nel scegliere questo titolo. Ma diciamo che il titolo viene un po' a naso, a pelle, l'editore guarda il libro, non è detto che lo lega, non potrebbe leggerli tutti, però la storia gli ispira qualcosa, a volte sono dei titoli un po' rocamboleschi, a volte invece sono così secchi, tipo ecco, Maledizione Notre Dame, gli è piaciuto, a me non dispiaceva, poteva essere un titolo valido che colpisce il lettore, più che altro è un titolo chiaro, che comunica immediatamente al lettore l'atmosfera del libro. Sembra leggiare una maledizione su tutti i personaggi fondamentali e quindi tanto vale dare ragione all'editore, dice diciamolo e portiamo subito il lettore dentro l'atmosfera del racconto. E quindi ricordiamo anche l'editore che è Newton Compton, il romanzo è stato appena pubblicato, sono anche 288 pagine per soli 12 euro, quindi una spesa assolutamente... Scusami, 9,90. 9,90? Allora ho preso i dati sbagliati dal sito dell'editore, perfetto, li correggerò nel blog, così almeno non forniamo informazioni fallaci. Non oriamo, chiaramente. senti Barbara, ti ringrazio davvero tanto. Grazie a te. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre videopresentazioni, compresa questa ovviamente. Quindi grazie ancora e a presto. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.